Forse qualcosa di più di uno spiraglio, una via di uscita vera e propria per i tanti lavoratori dell'acciaieria Stefana Di Nave. Esselunga potrebbe subentrare o acquisire in parte l'azienda favorendo la rioccupazione di oltre la metà dei dipendenti attuali di un gruppo siderurgico che è costituito da quattro stabilimenti, due a nave, uno a Montirone e uno a ospitaletto. L'offerta inoltrata al commissario giudiziale Nero Subianco è arrivata ieri da Esselunga affiancata dalla famiglia Ghidini, proprietaria dell'azienda, attualmente inconcordato. Un'offerta migliorativa rispetto a quella precedentemente fatta dai soli Ghidini di 33 milioni di euro che prevedeva il riacquisto di due siti, quello di ospitaletto e quello di nave, in via Brescia, con la riassunzione di 339 addetti. La nuova proposta invece annette anche lo stabilimento di Montirone, portando a 400 il numero dei lavoratori riempiegati, lasciando però ancora fuori quelli di via Bologna a nave. Su quest'ultimo sito sembra però esserci l'interesse della Duferco di San Zeno, per cui potrebbero aprirsi anche lì degli ispirali interessanti per la rioccupazione degli oltre 200 lavoratori, che rimanrebbero ancora scoperti. Sul piatto i due offerenti hanno messo 53 milioni di euro, in questo caso poi Ghidini e Caprotti, patron dell'Esselunga, divideranno le proprietà. Ha Ghidini due stabilimenti dove proseguire la propria attività con l'acciaieria e Selunga il vasto territorio del sito di ospitaletto dove verrà realizzato il progetto del polo logistico naufragato ad Azzanomella. Caprotti infatti avrebbe intenzione di realizzare l'ospitaletto in una zona strategica, due passi dall'autostrada Brebemi e dall'A4, un mega magazzino in grado di rifornire tutti i supermercati del nord Italia. Ai tempi era stato disposto ad investire 200 milioni per quello di Azzano, oggi con quella cifra riuscirebbe a coprire l'acquisto, lo smantellamento e la bonifica di un'area strategicamente validissima per un progetto di questo genere. Ma davanti a questo progetto si alzano già le proteste del comitato civicamente cittadini di ospitaletto che lo ha definito una vera e propria bomba dal punto di vista urbanistico, un regalo di nuovo traffico e altro inquinamento che andrebbero a accumularsi con i tantissimi problemi che sussistono sul piano ambientale e della tutela della salute dei cittadini di ospitaletto stesso. Di qui la richiesta di immediati chiarimenti al sindaco Sarnico.